ragazzacchi del web un salutone da un bacio e benvenuti in una nuova ohc sul canale siamo qui con un po di gente della multicore abbiamo bisunto endernico circto creziano maruco suri simo creeper mini uso gabuso e c'è pure den da qualche parte eccolo abbiamo anche minogilda e sarà un hc molto veloce saranno 45 episodi da un quarto d'ora l'uno più o meno sarà in 1 14 e lo scopo finale sarà quello di sconfiggere un raid dei pillage il mio compagno di squadra qua wider 03 mi darà manforte e mi supporterà in questa sfida ci vediamo in game simo è da solo partiamo signori ride uhc partita lagga un bordello deve caricare tutto salve mondo ripi mondo prendi vita vabbè io vedo una caccia qui intanto spacco eh il tempo è poco non otterrai però mele ora perché lagga un po qualche blocchino vedo che cade sì grazie signori attenzione io direi di prendere comunque degli alberi di oak perché non si sa mai magari ma io intanto grazie cortese con calma server quando ti pare vai tranquillo senza problema molto cortese mi di allegno vorrei lo stick a posto io vorrei avere un crook sì il crook no vorrei no ma è settato bene il server eh sì sì ho una cetà io legno non ci posso credere e mi faccio anche un piccone ok signori ti ho già perso però io sono di fianco a te signori allora incominciamo a parlare un po della particolarità di questa UHC non mi vedi allora partiamo col dire che questa non è un UHC uguale alle altre per il semplice fatto che siamo in uno 14 è un UHC più corta rispetto alle altre perché avremo purtroppo solo un'ora per prepararci alla battaglia esatto diciamo che il tema di questa UHC saranno i ride di fatti troveremo tardi e il lag anche il lag anche il lag giustamente perché nel senso non ci facciamo mancare niente no ma c'è oh siamo alla multico perché ma che scherzi mi e che fai te ne privi ci sono delle pecore uccida le pecore prego andiamo partiamo col dire che per distinguere dall'altro UHC abbiamo degli advancement particolari allora partiamo col dire che siamo in ride UHC quindi abbiamo fatto il primo advancement che inizia l'UHC poi c'è incanto un oggetto mangia mangiatore acnito di melador prendi danno sei un kill ok ok io non prenderò danno perché punto questa volta c'è all'iron e non accadrà non non a sconfiggere il lag è vero no 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 ok ci siamo e chi vi mi non me la prende sì 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 no ok no no diciamo aiuto è una mia è una mia tattica simon è una tattica sì sì perché io ho fatto laggare il server in questo modo gli altri laggano e noi no cosa palesemente non vera io devo capire una cosa dica ho visto uno stick volante sì esatto quindi le foglie droppano le stick ok troviamo una direzione allora io prenderei ancora un po' di legno perché sono a secco sì li prenderei strada facendo con meno lag possibile ok io ho la mia e vediamo se riusciamo a trovare un villaggio vedere di luttare qualcosa perché regola in questo hc i villaggi sono importati di spawn sì esatto c'è di più quindi abbiamo la possibilità di come dire luttare mela mela prenda la mela però io direi ecco villaggio 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 visto go 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 to dare go to dare go to dare uuuu bello cicciotto bello cicciotto uuu no ok ho già c'è sì c'è 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 simo c'è simo c'è quella allora ho un iron leggings e un iron chest roba buona io prendo i chest i leggings e a te do la chest plate ok vai 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 te lutta tutto il possibile che ci sono dei maiali ci sono altre casse dentro c'è solo la cassa del frattolo in teoria ogni casa potrebbe contenere una cassa potrebbe potrebbe ma noi come siamo sfigati che ti parla poi abbiamo delle ebay io le prendo giusto per il cibo è perché metti caso e del pane è bravo 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 se ne rompe volentieri sì sì ma io cibo a gratis detto non lascio nulla in giro c'è un coniglio che vorrei ammazzare ma mi fa troppa pena ok abbiamo la c'è un iron golem io la prenderei legamenti stare a regola ogni casa potrebbe contenere una ampe e te pareva che parte la canna da pesca che che mannaro che è un meme signori non ci posso fare nulla ok io direi cesta 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 come signori ho sentito rispondere avanti o prendi tutto dove sei dove sei dove sei dove sei sono visto 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 ottimo qua ok arrivo arrivo non ci credo simo un po cosa allora l'anvil ottimo ripway rook dieci frecce e un botto di oak planks ok dai buono 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 prendi tutto prendi tutto hai luttato tutto quanto è non tutto tutto forse ho lasciato qualche casa eh te lo dico wither è perché io mi sono arrivato dopo sì io mi sono leggermente perso direi ci spostiamo sì 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 oppure entriamo in caverna che dici allora facciamo un minimo di inventario di quello che che tu hai io e cinque balle di fieno allora io ti devo lasciare questa e un po' di cose io ti lascio questa è già metà frecce più ok questo questo io tanto posto quello che tu vuoi voglio un po' di ferro una mela le mele le mele le mele prendiamole le mele si buono prendi le quelle servono io prendiamo un po' di pane puoi direi di scendere e cercare di ottenere subito magari minerali più importanti poi cercare di risalire in un episodio per prendere altre cose smuoversi un po' diciamo allora qui ci sono delle torce prendiamole che posso piglia tutto piglia tutto piglia tutto noi avviciniamoci più possibile a 00 poi nel dubbio creeper salve buongiorno buongiorno si levi arrivederci è stato un dispiacere conoscerli giustamente nel senso che vuoi che fai te ne privi di un creeper e no che non te ne privi vabbè ed ho detto vabbè c'è c'è un buchetto mi ci infilo mi ci infilo e invece voleva lui eh non mi sto muovendo mele eh di che vuole senti io spacco almeno lo spieghiamo di velocizzare un po' e poi ci spostiamo magari cerchiamo io mi muoverei uh le cade da zucchero ah ma non sono andato indietro di 20 secondi no 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 mi prendo un'inizione ottica no sento ragni eh comunque quindi farei abbastanza attenzione ora come ora si è perché tanto ci sono molte caverne qua sotto sì esatto quindi spada alla mano perché non vorrei sì ne ho una brutta e spuzzolosa di legno di legno ok quindi io deprederei una casa di cobblestone e farei perlomeno quella di stone no ho picchiato il villager l'iron golem se vedi un iron golem avvertimi instant sì ce n'era uno eh però è quello il problema se mi vede l'iron golem mi 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 fa addio wither addio wither però non lagga al server no no lagga sono tutte fandosa non lagga qua c'è un deserto però oh boom boom dove sentite esplodere dove 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 boom boom e non lo so dove sei la 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 cosa del fabbro la cosa del fabbro allora è in un raggio di 15 blocchi più o meno o un po di meno gabus ha preso danno signori tutti che prendono danno vai che siamo vicino vai signori vai così domenora vedo willer è però il centro del villaggio ho paura amici non mi picchiate dov'è non mi picchiate per favore io sto facendo un giro sotto ma qui non la vedo perché le casse diciamo che utili lo sono ed è certo che dici sicuramente io l'hai trovata no stavo per cadere nel bauco della morte no non la veloce che cobblestone in caverna simo per forza sì sì perché è già notte quindi io mi rintagliere in una caverna ecco ti ho visto possiamo fare lo scudo e simo io proprio giusto giusto due pezzi sì sì quindi ferro sì rintagliamoci allora vieni qua con me simo allora fai lo scudo no vieni in casa con me che se non mi sbaglio di qua c'era ecco la caverna esatto io direi ci rintagliamo in questa casa ok molto molto rapidamente ok entra qui chiudi chiudi mi raccomando chiuso perfetto sei una bravissima persona piazziamo giù la crafting table eccola l'ho sentita ero signori ora l'ho sentita porco il demonio l'ho sentita è qui eccola 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 buono coprimi simo coprimi vai tranquillo coprimi oh mio dio mele tnt ferro un botto di roba ragazzi piglia tutto piglia tutto piglia tutto via via veloce torniamo via 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 della tela 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 non stiamo messi male no assolutamente tela via e c'è neanche un'altra da qualche parte vieni 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 che abbiamo un botto di roba simo abbiamo veramente un botto di roba ok ok faccio subito lo scudo sfruttiamo questa cassa e io non ho l'invento di tweak ricordate lo nabbo perché non c'è l'invento di tweak esatto ok uno scudo for simo uno scudo for you poi io adesso direi che la caverna eccolo lì l'iron golem maledetto maledetto lui ah proprio così di cattiveria si proprio così di cattiveria facciamo il tunnelino simo che dici anzi no scendiamo giù facciamo così per Si Facciamo le costine sagge Si esatto si sposti E letteralmente in mezzo Esatto Si però Buongiorno buonasera Avevo spaccato dieci blocchi Oddio Buono buono Allora vediamo un po' Uh ferro Ferro ok Ferro cavernazza buona Sento robe Zombie anche Tappo tappo Ok Ho palesemente tappato Ok Ma proprio palese Ci sono Faccia attenzione lei mi raccomando Molta attenzione Attenzionissima Utilizzi lo scudo per lo scheletro Dov'è lo scheletro? No no vieni via c'è il coso piccolo C'è il nano piccolo Dove? Eh sotto l'ho sentito Ehm ma non l'ho visto Tappa 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 Simo Eh sì Tappa veloce Perché La questione diciamo che non è delle migliori Oddio ma ti da già le cose cotte No Che mito Che goduria Vai Dagli esecchi Ah bella Torcia Scusa Ottimo Bello Aspetta Uide Guarda cosa sono qui L'amidia un po' di ferro ragazzi Sì ma vabbè ma chi c'è Me ne dia Le ne do la metà all'incirca Ok Quanto ce n'era? Eh Sì ma lo volevo raccogliere Ecco qua Ehm Sette 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 Allora io mi faccio la spada Ma secondo me sono sopra eh Ok Poi ne ho 5 Mi faccio anche il cappellino No 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 Cosa guida? Era lo zombie lì Malandrino Ho paura Oh è solo zombie Ah Ho paura Io mi faccio anche No non posso farla Quindi Un piccolo E li metto Magari Fa sempre comodo Sì Decisamente Faccio attenzione C'è un affogato Eh È sopra di te lo zombie eh probabilmente No è qui da qualche parte Solo che andate in giro Ehm Vabbè Signori si sta per Concludere Sta per finire Il primo episodio Il primo episodio Ah non l'abbiamo detto signore Lo dico adesso ma Ve lo ripeterò anche inizio prossimo video Gli episodi non saranno più spezzati come gli altri Ma saranno Uniti Quindi avremo Lo stesso numero di episodi Sia sul mio Che sul canale di Simo Esatto Sono circa 4 episodi Tutti su Ognuno sul suo canale Esatto Ok qui siamo al sicuro Guider quindi per ora E qui Qui è brutta cosa Perché qua si dirama troppo Sì Cerca di illuminare il più possibile Esatto Io cerco di Prendere Ok Ci siamo Uno scheletro Attenzione Scheletro Come ho detto Qua c'è anche del ferro Lo prendo E vi lascio con Lo scheletro Aiuto Anche mini zombie Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti